Ben trovati a tutti a questa nuova puntata di Insieme con la rassegna di periodici, i bollettini e i giornali della provincia di Belluno. Abbiamo tra le mani questa settimana l'Unione Artigiana, Confartigianato, il VESES e, come ultimo da sfogliare, il CADORE. Iniziamo con l'Unione Artigiana di Confartigianato Imprese e Belluno. Progetto Montagna Futura a Belluno, un evento importante, un seminario di confartigianato nazionale. È giunto il tempo della progettazione e dell'azione per il turismo nelle terre alte. E' quel tavolo dei relatori. Nella prima pagina, l'articolo di apertura della Presidente Claudia Scarzanella, uomo impresa la nuova sfida della sostenibilità. Fino ad oggi parla di cambiamenti profondi nella natura intorno a noi, con stagioni, condizioni meteo, corsi d'acqua, mare, animali, vegetazioni diverse. Fino ad oggi i comportamenti e le scelte degli uomini hanno contribuito a determinare il volto del paesaggio, e ciò è stato visto sempre come un progresso economia e vita. Ora proprio la nostra vita è quella di tutta la biodiversità della Terra, emessa in forte pericolo da fenomeni mai visti, ed è l'ora non del catastrofismo, ma della lucidità e dell'assunzione di responsabilità da parte di ognuno di noi. Continua poco sotto, è arrivato proprio per questo il tempo della soddisfazione per l'avvio di un percorso come quello di Montagna Futura, con la prima delle sue tappe proprio a Belluno. Questo progetto, che rientra in un'attenzione già evidenziata con la creazione del marchio Confartigianato Imprese Sostenibili, vuole sia analizzare dal basso, sia accompagnare i territori al fine di rendere le imprese consapevoli di ciò che sta accadendo. In conclusione, la trasformazione del modo di produrre dei nostri prodotti, dei nostri mercati e delle nostre reti alleanzi in filiere trasversali. Questo è appunto il progetto che lancia la Presidente Claudia Scarzanella. Nella pagina seguente, a pagina 5, il direttore Michele Basso parla di bilancio sociale, l'anima del nostro impegno, un bilancio che non è solo economico, ma che punta anche a mettere in rilievo aspetti oltre i semplici numeri. Sempre più aziende ed associazioni redigono il proprio bilancio sociale, un rendiconto della propria responsabilità sociale, un documento con cui si comunicano gli esiti della propria attività senza limitarsi agli aspetti finanziari e contabili. Ecco allora che Confartigianato Imprese Belluno vuole appunto fornire ai suoi interlocutori uno strumento in più per comprendere le attività socialmente responsabili e il valore che generano rispetto al territorio. Ecco perché Confartigianato Imprese Belluno ha consapevolmente e liberamente deciso di redigere il suo primo bilancio sociale. L'analisi delle attività poste in essere, di fatti, vuole essere occasioni per ribadire gli scopi a cui l'associazione mira e i valori che ne permano l'azione. Il bilancio sociale, conclude Michele Basso, direttore, è un documento che fornisce una serie di informazioni sulle performance di un'organizzazione non solo in termini economici, ma anche rispetto all'impatto che questa ha sulla società, sulle persone coinvolte nella propria attività. Vuole altresì essere utile per l'associazione stessa? Vuole essere utile e uno strumento imprescindibile per un'autovalutazione concreta in un'ottica di miglioramento e di evoluzione. Riprendendo appunto anche l'immagine di copertina, l'articolo dedicato a questo progetto Montagna Futura, che è un'iniziativa addirittura di Confartigianato nazionale, che ha avuto proprio il primo appuntamento a Belluno, momento significativo. Il tempo della progettazione e dell'azione per il turismo nelle terre alte. Ecco appunto si parla di orgoglio bellunese, perché è un importante seminario nazionale tenutosi a Belluno, a partire dai cambiamenti climatici in atto. Orgoglio bellunese, Confartigianato nazionale, lancia il progetto Montagna Futura, che culminerà poi in un evento finale a Roma. È stato poi riportato qui in modo dettagliato anche il percorso di questo progetto Montagna Futura. Parole di Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, il quale dice l'inverno demografico che colpisce le aree montane in misura maggiore rispetto al resto della regione, coinvolge sia la popolazione che le imprese e potrebbe subire una forte accelerazione se non verranno individuati tempestivamente strumenti opportuni. Poi si continua con l'analisi appunto dei cambiamenti climatici, con l'intervento di Giampaolo Bottacina, assessore all'ambiente e dissesto idrogeologico della regione Veneto, la questione del turismo e poi ancora si parla in un infine di creare e sviluppare percorsi per l'adattamento e la riprogettazione dei territori, nel nostro caso della montagna. Un articolo molto dettagliato che spiega appunto le progettualità che sono in corso. Andiamo avanti solo di qualche pagina per dare un'occhiata a questa iniziativa interessante, Belluno Destinazione Accogliente. Di cosa si tratta? La mappatura della ricettività per famiglie con i bambini. Qui a Belluno, con fartigianato Imprese Belluno, con il supporto tecnico di Just Good Tourism, sta coinvolgendo i propri associati nella mappatura di tutti i servizi particolarmente rivolte all'accoglienza del target famiglia con bambini, sia in ambito turistico che di comunità residente. Quest'azione aiuterà a ricostruire come Belluno si posizioni oggi nel mercato e quali passi siano da valutare per migliorare la sua offerta. Le imprese che parteciperanno al questionario poi potranno essere caricate anche con punti di interesse su una piattaforma online regionale. Si parla appunto ancora di questo progetto Belluno Destinazione Accogliente, promosso dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto, insieme a DMO Dolomiti Bellunesi, Comuni Belluno e Cameri Commercio Treviso Belluno. Il progetto ha l'obiettivo di diffondere e dare concretezza i valori della Carta dell'Accoglienza e dell'ospitalità della Regione del Veneto, promuovendo nel territorio e nella sua filiera turistica una cultura dell'accoglienza anche in vista dei giochi olimpici 2026, il cui punto nevralgico di interesse sarà proprio la città di Belluno. Un articolo decisamente che dà interesse. Passiamo al Vesess. Il giro ritorna in Val Belluna di questi giorni, il Giro d'Italia si sta appunto consumando sui pedali dei corridori per le strade della nostra Italia. In apertura il ciclismo bellunese, un'intervista con la Presidente Provinciale Federazione Ciclistica Italiana Mara Agricola di Limana, che ricopre da quattro anni la carica di Presidente Provinciale appunto della Federazione Ciclistica Italiana. Alcune domande anche interessanti che riguardano sport ciclistico nella terra bellunese. Qual è lo stato di salute delle associazioni bellunese? La risposta è Belluno contro conta 14 società affiliate, due in meno rispetto al 2023. La riforma dello sport ha messo in crisi in modo più o meno importante tutte le società sportive, con un aggravio anche di oneri sia burocratici che monetari non proprio indifferente. Anche l'organizzazione di una gara è diventata molto più complicata, ma nonostante ciò tutte si stanno comunque adeguando. Tra altre interviste, altre domande? Il numero di bambini e ragazzi che si avvicinano a questo sport è sempre più o meno costante? Risposta, a livello giovanile siamo sempre sugli stessi numeri, nella stragrande maggioranza orientati verso la mountain bike, anche perché solo le squadre del Foen e del Fonzaso fanno strada a livello giovanile, con qualche presenza anche tra le figlie del Bettini Bike e della Winner Bike. Dai 16 anni però per fare ciclismo su strada, dai 16 anni in su, o tocca uscire dalla provincia. Per la ragazza la situazione è ancora più difficoltosa, perché una volta uscite dalla categoria giovanissimi, quindi dai 13 anni, le gare ad essere dedicate sono poche e tutte distanti. La mountain bike invece riesce a dare più possibilità, ne sono esempio, per esempio Giada Specia e Georgia Marquette, che gareggiano ad alto livello. E poi si parla anche dell'incidenza della pericolosità della strada nella scelta dei genitori di portare il proprio figlio a correre con le ruote larghe, piuttosto che con quelle strette, anche perché appunto le strade, come sappiamo, hanno sempre il pericolo dietro l'angolo. Giriamo ancora, sfogliamo ancora qualche pagina. Il Rosa Bellunese, la storia dietro la maglia del giro, questa è una notizia che forse non tutti sanno, appunto perché il simbolo del Giro d'Italia, il prestigioso capo di abbigliamento che ogni ciclista vorrebbe indossare almeno una volta nella vita, la maglia rosa, è un prodotto d'eccellenza del bellunese. La maglia rosa viene infatti disegnata e prodotta dalla manifattura Val Cismon, un'azienda nata nel 1946, inizialmente come filanda per la lana, oggi specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo a livello mondiale. Quindi motivo di orgoglio anche questo per la terra bellunese. Ancora qualche pagina dedicata alla bicicletta mi soffermo sull'ultimo articolo, per questo momento dal Vesès, pedalando tra arte, vita e passione. La ricca produzione narrativa, cinematografica, artistica e musicale che ruota attorno alla bicicletta suggerisce un elemento distintivo che la rende di grande creatività, fonte di grande creatività. Il Giro d'Italia e il ciclismo sono stati innalzati a metafore della vita stessa, con le loro lotte, sacrifici, avventure e momenti di difficoltà, ispirando molteplici espressioni artistiche. Così il ciclismo non si limita a essere uno sport, ma si trasforma in una filosofia di vita raccontata attraverso parole, racconti e opere d'arte di inviati scrittori, poeti e artistici. Non abbiamo il tempo, ma varrebbe la pena anche leggere questo frammento di Dino Buzzati al Giro d'Italia nel mid del 1981, ma lo lasciamo al vostro interesse e alla vostra curiosità. Concludiamo questa panoramica, questa rassegna con questi giornali, soffermandoci su Il Cadore. Bella immagine di copertina da un campanile di una delle tante chiese cadorine e appunto l'immagine di copertina arriva in via all'articolo di apertura. Campanili, torri e campane, luoghi di vita comunitaria. Sono raccolte in un libro le fotografie di Vito Vecellio, che per più di un anno e mezzo, attendendo il momento singolare per scattare, è salito su tutti i campanili delle parrocchiali del Cadore, raccogliendo una testimonianza preziosa e unica, che è diventata un volume di prestigio. Solo da segnalare un fatto molto interessante, perché Vito Vecellio appunto dice che ha utilizzato una pellicola particolare, una pellicola HP5 tirata 800 Asa, e ha sviluppato personalmente i negativi, stampato le fotografie in camera oscura su diversi tipi di carta. Nessun intervento di post-produzione, taglio e correzioni in fase di stampa tipografica. Per le riprese non sono stati utilizzati droni né intelligenze artificiali. Quindi proprio l'arte della fotografia, proprio riportata alle origini e ai primi tempi. Oggi la tecnologia ci permette di fare cose quasi concepite impossibili, ma Vito Vecellio ancora ritorna alla antica sapienza manuale anche del produrre le fotografie. Non abbiamo altro tempo, vorremmo sfogliare alcuni altri articoli, più interventi di soccorso del SUEM nell'inverno, l'intervista al sindaco di Borca di Cadore, Bortolo Sala, ma tutto questo lo lasciamo appunto alla vostra curiosità, al vostro interesse, come ho detto anche prima. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Io vi ringrazio dell'attenzione che ci avete dedicato e alla prossima settimana. Grazie a tutti.